Oggi Mario Draghi ha annunciato le nuove decisioni di politica monetaria. Era un annuncio molto molto atteso, almeno per due ragioni. Mario Draghi ha finito i primi suoi quattro anni di governatorato e una sorta di giro di boa, da un lato. Dall'altro il momento congiunturale è molto particolare, è una fase delicata. All'inizio dell'anno, a marzo, è partito il cosiddetto Quantitative Easy 1, cioè la manovra di espansione monetaria, che ha dato dei risultati, almeno sul piano della liquidità. Aumento del credito sui mercati, abbassamento dei tassi di interesse. Però la manovra non ha ancora sortito tutti i suoi effetti, almeno quelli sperati, sulla parte reale dell'economia. La ripresa economica, l'andamento degli investimenti, tutto sembra molto anemico. Quindi oggi si attendeva una sorta di Quantitative Easy 2. C'è stato, c'è stata un'accelerata, potremmo dire un'accelerata dolce, un andiamo avanti con giudizio. Essenzialmente cinque provvedimenti. Da un lato sono state abbassate le remunerazioni sui depositi che le banche possono fare presso la Banca Centrale Europea, quindi questo cerca di incentivarle a fare credito. Dall'altro lato, sulle operazioni di mercato vere e proprie, in primo luogo c'è stato un allungamento di queste operazioni. Continueranno almeno fino al marzo 2017. Inoltre i titoli rimarranno nel portafoglio della Banca Centrale e i loro proventi verranno reinvestiti, quindi questo significa ulteriore liquidità. Inoltre la Banca Centrale Europea acquisterà nuovi titoli emessi sempre da soggetti pubblici ma diversi da quelli acquistati finora. Infine, nelle operazioni di rifinanziamento, cioè del credito che la Banca Centrale fa alle banche europee, continuerà il cosiddetto sistema rubinetto. Si definisce un tasso di interesse praticamente schiacciato verso lo zero e tutti coloro che vogliono accedere a questo rifinanziamento possono farlo purché abbiano le idonee garanzie. Un'operazione quindi di ripresa della liquidità forse meno aggressiva, meno radicale rispetto ad alcune aspettative, ma forse erano aspettative fondate sull'acqua. Il gradualismo per la Banca Centrale Europea non è una scelta, è una necessità per due ragioni, da un lato ragioni economiche e dall'altro ragioni politiche. Le ragioni economiche è che i quantitativisi hanno effetti assolutamente non consolidati e non robusti, per cui essendoci dibattito sugli effetti c'è una contrapposizione tra coloro che vorrebbero espansioni sempre più aggressive, le cosiddette colombe, e coloro invece che paventano i risultati, anche controproducenti di queste espansioni. Dunque ragioni politiche di contrapposizione che si intrecciano con quelle economiche. Quelle politiche sono evidenti, la Banca Centrale Europea gestisce un sistema in cui ci sono 19 stati sovrani diversi, quindi è una necessità andare avanti sì con l'espansione monetaria, ma con giudizio. Grazie 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 Grazie